Musica Sindaco, sindaco di vola, oh Giancrazio, sindaco di vola, sindaco, sindaco, sindaco di vola, oh Giancrazio, sindaco di vola. Sono onorato di aver ricevuto dalla meccanianza questo incarico, me lo sento tutto addosso con il peso, la responsabilità, la giusta, la responsabilità, e dico grazie a coloro che hanno creduto in me e ora l'impegno è farmi credere anche dagli altri, così sarò il sindaco di tutti. Ovviamente siamo contenti, è stata una sfida molto bella, devo dire che gli avversari hanno tenuto botta in una maniera importante, e quindi onore agli sconfitti, che comunque rappresentano una fetta di cittadini notevole. Noi comunque abbiamo vinto e a noi spetta l'onere, oltre che l'onore, di lavorare per questo Paese. Abbiamo le idee chiare, siamo stati molto precisi nel documentare i cittadini, quelli che sono i nostri punti programmatici, abbiamo queste idee, progetti e proposte che non vediamo l'ora di mettere in campo. I cittadini hanno finalmente avuto quello che si meritavano, non hanno meritato questi cinque anni orrendi. Beh, intanto stasera siamo molto soddisfatti di questa vittoria. Credo che siamo stati premiati proprio per ciò che abbiamo detto in questi giorni, insomma in queste settimane di campagna elettorale, e cioè che il nostro progetto si propone proprio come rinnovamento, come voglia di cambiare il nostro Paese, di metterci a disposizione con il massimo impegno. Quindi sicuramente da domani saremo già al servizio del nostro territorio. Uno di noi, uno di noi, c'è ragazzo uno di noi, uno di noi, c'è ragazzo uno di noi.